salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di lei la videocamera di sorveglianza della blurasm a31 c questa versione di videocamera di sorveglianza che ha un particolare molto interessante che mi ha davvero entusiasmato questo pulsante one touch è un pulsante che fa la differenza secondo me in molte situazioni ma prima di andare a vedere la funzione di questo pulsante le sue caratteristiche tecniche parliamo un attimo di lei di cos'è una videocamera di sorveglianza da interni che ci permette di monitorare la nostra abitazione anche quando siamo fuori casa attraverso lo smartphone ma soprattutto di monitorare oltre che se ci sono delle intrusioni perché comunque lei rileva i movimenti rileva il movimento umano quindi rileva la figura umana quindi nel caso di un'intrusione ci arriva una notifica nello smartphone possiamo anche monitorare se abbiamo degli animali domestici ma soprattutto possiamo monitorare anche se lasciamo a casa dei bambini da soli o se abbiamo in casa delle persone molto anziane con magari anche dei problemi e qua entra in gioco il pulsante one touch ma di questo come vi ho detto parleremo tra poco prima di vedere tutte le sue caratteristiche tecniche che comunque sono molto interessanti soprattutto per quanto è completa la sua applicazione le caratteristiche per quanto è completa la sua applicazione le opzioni che ci permette di modificare andiamo a vedere velocemente cosa c'è nella confezione andiamo a vedere velocemente cosa c'è nella confezione la confezione è questa al suo interno troviamo un cavo d'alimentazione usb micro usb l'alimentatore per far funzionare la nostra videocamera di sorveglianza una dima per bucare e due fischer se vogliamo fissare la videocamera di sorveglianza ad una parete manuali di istruzioni con anche la lingua italiana e i qr code da scansionare per scaricare l'applicazione dedicata sia per ios che per android ed infine troviamo lei la blur arms a 31c lei è una videocamera di sorveglianza che ha una fotocamera da 3 megapixel è in grado di registrare ovviamente anche senza luce sia a colori che in bianco e nero se utilizziamo gli infrarossi abbiamo la possibilità di inserire qua sotto una scheda micro sd fino a 128 giga per registrare ovviamente tutto quello che succede nella nostra abitazione e abbiamo la possibilità anche di attivare un cloud dove per 30 giorni lo potremo provare senza pagare nulla quindi possiamo provarlo tranquillamente dopodiché se vogliamo continuare ad utilizzarlo abbiamo vari piani tra cui due piani mensili e poi abbiamo i piani annuali ovviamente all'interno del cloud abbiamo possibilità maggiore rispetto alla micro sd ovviamente sfruttando il cloud abbiamo delle funzioni in più compresa la registrazione continua della videocamera però poi uno ovviamente decide in base alle sue necessità comunque vale la pena provare i 30 giorni di prova e poi andare a decidere se fare o meno l'abbonamento o no in base alle proprie necessità e continuare ad utilizzarla senza nessun cloud lei è in grado ruotando di coprire un'area di 355 gradi mentre come inclinazione tilt abbiamo fino a 110 gradi supporta il wifi 2,4 gigahertz come abbiamo detto l'applicazione dedicata è disponibile sia per ios che per android è in grado di distinguere sia le figure umane che gli animali che i suoni quindi anche il rumore se attiviamo nell'opzione questa funzione farà appunto attivare la notifica verso il nostro smartphone anche questa è una cosa comoda perché non solo se inquadra un soggetto ma anche se sente un rumore quindi queste sono le sue caratteristiche principali per associare al nostro smartphone alla nostra rete wifi è semplicissimo infatti vedete che sta già scorrendo il video dove vi faccio vedere velocemente come si fa ma è davvero semplicissimo andarla ad associare come tutte le videocamere di sorveglianza ormai è diventato davvero una stupidata è diventata davvero una stupidata andare a collegare il tutto alla nostra rete wifi quindi una volta fatta tutta l'associazione aver attivato la nostra videocamere di sorveglianza possiamo entrare in quello che è il menu di lei la 31c e ragazzi devo dire che è tanta tanta roba per quanto è completo e per quante possibilità di opzioni attivabili o disattivabili che abbiamo integrato appunto nella sua applicazione quindi adesso guardiamo da vicino tutte le opzioni che abbiamo disponibili e poi alla fine guarderemo lui il pulsante one touch ok andiamo aprire la nostra applicazione blur arms e abbiamo già subito live quello che sta inquadrando la videocamera se entriamo nelle impostazioni cliccando sull'ingranaggio abbiamo quel menu di cui vi stavo parlando prima di tutte le opzioni disponibili abbiamo nome dispositivo ovviamente che possiamo dare qualsiasi nome tra ve ne suggerisce qualcuno ma possiamo usare e scrivere quello che vogliamo abbiamo utilizzo del dispositivo che possiamo andare a dirgli che utilizzo abbiamo del dispositivo perché comunque possiamo avere molte telecamere all'interno della nostra abitazione poi abbiamo l'interruttore del dispositivo per spegnere la nostra videocamera di sorveglianza poi abbiamo dispositivo spento alle cosa vuol dire che possiamo andare a programmare la pianificazione e gli orari in cui vogliamo che lei monitorizza la nostra abitazione quindi negli orari che magari siamo in casa non ci interessa mentre quando usciamo o quando lasciamo in casa qualcuno e vogliamo controllarlo allora potremmo andare a mettere determinati orari ma non siamo obbligati a mettere niente possiamo che non programmare niente o programmare poi abbiamo il menu con i servizi dove possiamo andare attivare appunto il cloud con la possibilità di provarlo per 30 giorni gratuitamente o come abbiamo visto in precedenza con i vari abbonamenti annuali e mensili poi sempre inclusi nella funzione cloud abbiamo anche altre opzioni che ci permettono di sfruttare al meglio questa videocamera di sorveglianza con l'intelligenza artificiale che questa videocamera di sorveglianza è in grado di darci sì perché lei comunque ha un'intelligenza artificiale per quanto riguarda appunto il riconoscimento degli animali riconoscimento delle persone riconoscimento addirittura dei familiari quindi un'intelligenza artificiale che ci fa sfruttare davvero appieno questa videocamera di sorveglianza di cui abbiamo parlato prima non obbligatorio poi abbiamo video che ci permette di regolare la qualità del video che andremo a registrare perché comunque più abbiamo una rete performante più potremo utilizzare una qualità altra del video vedete che abbiamo basso medio alto io adesso sono un po' lontano dal mio modem con le porte chiuse perché sono qua nello studio ho messo basso per avere meno latenza però ovviamente se abbiamo la videocamera di sorveglianza messa nella posizione giusta come ce l'ho io normalmente che non è ovviamente sopra a questa scrivania possiamo ovviamente aumentare la qualità video che abbiamo appunto nella live che andiamo a guardare poi abbiamo visione notturna qua possiamo selezionare che tipo di visione notturna se in bianco nero a colori possiamo disattivare la visione notturna quindi lei non entrerà in nessuna delle due modalità disponibili e vedete quante opzioni disponibili solo per questa funzione poi abbiamo ruota immagine ovviamente se la videocamera di sorveglianza è messa in una posizione in cui l'immagine sarebbe messa al contrario a quel punto facciamo ruota immagine e la vedremo ovviamente dritta all'interno del nostro smartphone poi abbiamo la possibilità di attivare disattivare le spie di stato abbiamo la possibilità di attivare disattivare il microfono perché comunque lei è bidirezionale quindi è possibile sia comunicare verso di lei quindi far uscire la nostra voce dalla videocamera in sorveglianza che ovviamente parlare nella videocamera o meglio lei può andare a recepire tutti i suoni nell'ambiente e noi li sentiamo nel nostro smartphone in live poi abbiamo l'opzione che ci permette di inserire all'interno del video la data e l'ora quando appunto registra dei movimenti o registriamo noi volontariamente una parte di video poi abbiamo il volume dell'atto parlante e adesso voglio farvi vedere la parte importante che sono le notifiche quindi entrando in impostazione push di notifica abbiamo un sacco di impostazioni ovviamente possiamo andare attivare disattivare le notifiche se vogliamo che ci siano inviate o meno e possiamo andare a nozionare tantissime funzioni di rilevamento cioè tipo rilevamento del suono quindi lei riconoscerà o meglio sentirà dei rumori quindi invierà la notifica potremmo andare a regolare anche la sensibilità del suo microfono e ovviamente potremmo anche disabilitare questa funzione potremmo andare ad attivare la funzione compare qualcuno cosa vuol dire che viene rilevata una figura quindi lei ci invia la notifica poi abbiamo rilevamento degli animali domestici come vi dicevo che ci permette di rilevare solo gli animali domestici quindi la notifica sarà dedicata all'animale domestico che viene rilevato quindi nella notifica sarà specificato che è stato rilevato il movimento di un determinato animale domestico abbiamo un sacco di impostazioni date dall'intelligenza artificiale infatti è molto completa questa parte appunto sfruttando l'intelligenza artificiale abbiamo un sacco di opzioni configurabili in base alla nostra situazione in base a cosa vogliamo far riconoscere alla videocamera addirittura far riconoscere un familiare che compare nella videocamera quindi abbiamo davvero una situazione super completa per quanto riguarda appunto l'intelligenza artificiale e poi qua sotto abbiamo interrompe il tempo di notifica quindi possiamo andare anche a mettere una pausa al tempo di notifica se vogliamo che per un periodo non ci arrivi nessuna notifica e poi abbiamo frequenza di invio cioè possiamo andare a dirgli ogni quanto venga notificato un movimento nel senso che se una persona passa davanti alla videocamera poi ripassa subito non mi arrivano subito due notifiche ma deve passare un determinato tempo prima che lei mi invii un'altra notifica per un altro movimento quindi è davvero secondo me super completa per quanto riguarda le opzioni e le regolazioni personalizzabili che abbiamo all'interno di questo menu quindi penso di aver fatto vedere tutte quelle che sono le sue caratteristiche a livello di opzioni mentre qua adesso abbiamo le opzioni live cosa vuol dire che se io clicco sopra alla live vedete sono in live quindi c'è qua la mia mano davanti abbiamo altre funzioni cioè possiamo attivare disattivare il microfono sentite la voce che esce il microfono vado interrompere se no si crea un eco posso scattare una foto posso registrare un video quindi decidere io di registrare un video oltre a quello che lei già registra quando c'è un movimento perché comunque viene registrato un piccolo video quando lei vede un movimento perché lei già registra un piccolo video quando vede un movimento e abbiamo anche una piccola anteprima nello smartphone mentre se io faccio partire la registrazione dallo smartphone avrò la registrazione direttamente disponibile nello smartphone poi abbiamo le funzioni qua sotto di allarme quindi andando cliccare sulla sirena faccio partire una sirena adesso la sentirete quindi faccio partire io in automatico questa funzione e poi abbiamo il simbolo in basso a destra che ci permette muovendo appunto questo joystick virtuale di fare ruotare la videocamera nei 355 gradi di rotazione che ha e nei 110 di inclinazione verso l'alto e verso il basso e in più abbiamo la possibilità anche di creare un video panoramico in cui lei ruotando in tutti i suoi gradi disponibili creerà un'immagine unica davvero interessante ovviamente anche questa funzione quindi questo è tutto quello che è in grado di fare ma adesso volevo farvi vedere quello che mi ha entusiasmato tanto il pulsante one touch come vi dicevo prima è un pulsante che diventa molto utile se lasciamo a casa dei bambini da soli abbiamo a casa delle persone anziane che magari hanno dei problemi sono molto anziane e in una situazione di pericolo perché magari non stanno bene non si sentono bene o magari hanno paura di qualcosa o succede qualcosa possono andare a premere il pulsante qua con la cornetta telefonica e parte una chiamata verso il nostro smartphone guardate che spettacolo e vedete che arriva subito chiamata con solo tocco quindi vado a cliccarci sopra e vedete che avete nello smartphone una chiamata come se fosse una video chiamata quindi in un attimo chiunque si trova magari in pericolo perché non si sente bene perché ha paura di qualcosa perché è successo qualcosa con un touch della cornetta sulla videocamera di sorveglianza ci mette subito in comunicazione io vado a fare risposta e a questo punto c'è una comunicazione bidirezionale ovviamente adesso non si capisce niente perché c'è la mia voce che esce di qua entra di là vado a interrompere se no diventa un casino a livello audio però avete capito il senso di questo pulsante one touch ma adesso è arrivato il momento di parlare di prezzi allora questa videocamera di sorveglianza a31c che ha questo pulsante one touch e costa circa 40 euro vi lascio qua sotto il link in descrizione anche il coupon sconto se riesco a recuperarli e oltre che qua in descrizione sicuramente la potrete trovare anche nel mio canale telegram offerte insieme anche il coupon sconto se dovessero arrivare in seguito quindi ragazzi spero che questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questa videocamera di sorveglianza con pulsante one touch per determinate situazioni vi sia piaciuto che l'abbiate trovato utile ed interessante se è così lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità anche prima anche di lei è arrivato qualcosa quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni ma tutta la tecnologia in generale anche di lei se arriveranno i coupon sconto in seguito vi lascerò ovviamente sia qua in descrizione ma anche nel mio canale telegram offerte successivamente quando ne usciranno anche dopo questo video ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi anche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video